Oltre 430 milioni di euro per la formazione professionale nella nuova programmazione 2021-2027. Pensate, sono esattamente 100 milioni di euro in più rispetto alla vecchia programmazione, quella datata 2014-2020. Quindi anche un grande riconoscimento per la Liguria che si trova in una posizione importante con oltre 100 milioni di euro in più rispetto alla precedente programmazione. Ma questo deve essere anche grande motivo di responsabilità da parte nostra perché questi fondi, che ripeto sono anche una grande occasione, devono essere utilizzati al meglio per dare competenza, questo è anche l'anno europeo delle competenze, ma anche per dare certezze di inserimento nel mondo del lavoro e quindi anche soddisfazione alle imprese, a tutte quelle realtà che cercano nuove figure professionali. Noi solamente nel 2023 abbiamo investito 60 milioni di euro proprio per andare incontro alle esigenze del territorio, ma da noi la formazione, come dicevo, deve essere un sinonimo di lavoro e per questo noi prima di programmare corsi o bandi di formazione noi ci confrontiamo col territorio, ci confrontiamo con i comuni attraverso ANCI, ci confrontiamo con le cammere di commercio, ci confrontiamo con tutto il mondo e il tessuto economico imprenditoriale della Liguria per far sì che vengano da loro segnalate richieste, esigenze, proposte e quindi insieme, perché è un tema da affrontare insieme, noi poter dare soddisfazione. Per il momento siamo molto soddisfatti perché di questa cifra importante che dicevo prima dal 2021 abbiamo già impegnato oltre 100 milioni di euro e i risultati si cominciano a vedere perché gli ultimi dati sull'occupazione Liguria parlano di un 2,7% di aumento, quindi è una piccola macchina che comincia a muovere i suoi passi in senso positivo dando risposte, ma non basta, dobbiamo e possiamo fare ancora di più e lo vogliamo fare insieme. In tutto questo io lancio anche un appello perché serve la collaborazione di chi questi corsi di formazione li deve frequentare e quindi dico ai giovani ma anche ai meno giovani perché i nostri corsi sono anche aperti a chi il lavoro l'ha perso e quindi avanti con gli anni si vuole reinserire io dico di fidarsi di noi, di partecipare ai corsi di formazione perché questi gli daranno professionalità, competenza, qualità e un lavoro quasi certo perché le richieste sono veramente tantissime e noi dobbiamo soddisfarle dando anche soddisfazione ovviamente ai lavoratori futuri. In tutto questo non voglio dimenticare i corsi TS, i TS Academy, sono sei in Liguria, sono una realtà straordinaria, si parte dall'agroalimentare in provincia di Imperia piuttosto che la canteristica nello spezzino, piuttosto che il turismo e il commercio nel genovese oltre che la marina mercantile, quindi tanti temi che danno pensate il 90% di occupabilità, di occupazione finito il corso ITS, quindi una certezza di trovare lavoro. Quindi a tutti dico fidatevi di Regione Liguria, fidatevi dei nostri progetti noi stiamo investendo molte risorse come dicevo prima ma insieme con la fiducia di chi frequenta questi corsi e anche con la grande disponibilità e che ringrazio di tutti gli stakeholder locali noi possiamo dare occupazione, soddisfazione alle persone e anche una risposta concreta alle imprese, al mondo del lavoro che cercano appunto nuove figure.